Ben ritrovati amici di Primo Canale da Ima Parigi di Trebi Meteo, contesto anticiclonico questo fine settimana sulla Liguria ne consegue un sabato con tempo stabile, assolato e temperature di orne in graduale leggero rialzo grazie all'attenuazione del flusso gelido da est. Ora vediamo più in dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna provincia progressivamente da ovest verso est. Partendo da Imperia il tempo si presenterà stabile e ampiamente soleggiato. La ventilazione sarà debole assente, le temperature di orne riusciranno a toccare 10-12 gradi. Ora osserviamo più in dettaglio cosa ci attenderà sulla provincia di Savona, analoga situazione, stesi rasserenamenti sul territorio, ventilazione debole assente, mari di conseguenza quasi calmi o calmi e sotto costa, clima ancora freddo seppur le temperature di orne riescono a guadagnare qualche grado. Temperature minime invece ancora bassine di poco superiori allo zero. Su Genova tempo stabile e ampiamente soleggiato. Anche qui ventilazione debole salvo locali rinforzi al primo mattino ma poi in graduale attenuazione, temperature massime attorno ai 10-12 gradi. Uno sguardo anche a cosa ci attenderà sul Tiguglio. Il tempo anche qui sarà stabile con estesi rasserenamenti sul territorio e temperature massime che riusciranno a toccare 11-12 gradi. Analoga situazione anche sullo spezzino, stabilità atmosferica, estesi rasserenamenti sul territorio, una ventilazione debole assente e un clima non particolarmente freddo. Nella giornata di domenica il sole tornerà ad essere prevalente sul territorio. La ventilazione sarà ancora debole o assente ma le temperature di orne, un po' come si anticipava, saranno in leggero rialzo. Toccheremo punte massime di 12-13-14 gradi grazie all'attenuazione delle correnti fredde nord-orientali. Con questo per il momento è tutto, dettagli maggiori sempre sull'app Trebi Meteo.